Ehi ragazzi, buonasera ragazzi, oggi giornata no ragazzi Cioè praticamente mi vado a coricare che sto bene, mi alzo che sto, sto una pinza Allora vi racconto com'è andata la giornata di oggi Ci siamo alzati, di Lucia, l'ho accompagnata al lavoro E già di là non stavo bene, cioè appena ho aperto gli occhi Niente, praticamente avevo un affanno tremendo Tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanta Di quel muco che ho spuntato, scusate se stiate mangiando però Questo affanno continuo, continuo e continuo Cosa ho fatto? Com'è andato a Lucia e sono venuti subito a casa Voi immaginate, per salire secondo piano ci ho messo quasi un quarto d'ora Che è successo? Che entro a casa, mi lavo la faccia E quant'altro e mi vado a mettere nel letto Da lì mi sveglio che erano l'una e un quarto, l'una e mezza perché mi chiamo a Lucia Niente, anzi, da permettere che mi stava sentendo anche la febbre Mi chiamo a Lucia e fa, vedi che devo andare a fare la spesa, ha fatto una guarda Non ce la faccio, no, non voglio, non voglio fare una sciocchezza che è caldo caldo dal letto Poi esco Allora andata a Lucia con i miei genitori a fare la spesa Per non portarmela lunga mi sento ancora una pizza Sono dalle 6 e mezza Lucia è di là che sta venendo la serie televisiva Modern Family Perché Danielino ci ha consigliato di continuare a vedere che è caldo Cioè ieri avevo detto sabato, weekend, da sbalo, da sturbo E invece sono qui In quella piccina Ragazzi, 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 metto qui così mi vedete Sì, 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 mi metto qui sotto la luce Semplicemente per dirvi che siamo andati da letto Oddio, se vero è già metto da un pezzo Sono già lì Sicuramente già, starà già dormendo dall'altra son Lily non si vede mai lì sul suo tapetino E io mi era tormentata lì Sì, no Mentre vedevi la mia serie Un Modern Family E beh, ragazzi, è bello Mi sta piaciendo, mi sta piaciendo tanto Mi sarò vista forse Una decina di episodi stasera Perché non ti piace la mente Quindi ve lo sono vista Vabbè, niente, ragazzi Vi do la buonanotte Ciao a tutti, buonanotte Ciao a tutti Ciao a tutti